Più siamo, prima vinciamo contro il Covid. Quattro giorni di vaccini in riva al mare. Nella scuola dell'infanzia sul lungomare di Fossacesia è possibile ricevere la propria dose senza bisogno alcuno di prenotazione. E per intercettare i giovani della Movida, ci spiega il sindaco di Giuseppe Antonio. Sta andando bene, veramente bene. Sono giorni in cui dalle 16 alle 21 c'è gente che correttamente fa la fila, aspetta di farsi il vaccino. Quindi grazie alla ASL, grazie soprattutto ai volontari, grazie a tutti gli operatori, grazie ai medici, grazie a chi si prodiga per far vincere la lotta contro il Covid. Io sono contento, come sono contento anche molti sindaci che ospitano, che generosamente i comuni si danno da fare assieme alla ASL per far fronte all'esigenza di estendere il più possibile servizio di vaccino nel territorio della nostra ASL. L'iniziativa è partita lunedì scorso, ripetuta anche mercoledì e questo pomeriggio, e terminerà domenica. Qui si somministrano circa 50 dosi al giorno e potranno vaccinarsi anche i turisti che si trovano in vacanza a Fossacesia. Effettivamente abbiamo dato un servizio ai tanti turisti. Quest'anno abbiamo avuto un boom. La nostra economia si basa sul turismo in particolare e hanno avuto questo servizio. Ci sono stati molti turisti che sono venuti qui, in questa sede che ospita il centro vaccinale, a farsi il vaccino.